Il comune di Villafranca Sicula ha completato la bonifica totale dall'amianto dell'intero territorio comunale. Lo ha annunciato con soddisfazione il sindaco Domenico Balsamo. È noto come l'amianto sia un materiale dannoso per l'ambiente e per le persone, sia quando utilizzato in forma friabile, sia in forma compatta. Villafranca Sicula si è adeguata alla normativa vigente dotandosi del piano comunale amianto finalizzato al censimento e localizzazione della presenza dell'amianto e quindi procedere prima a rimuovere rapidamente i rifiuti abbandonati contenenti amianto e successivamente programmare gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto esistenti su territori, anche negli edifici e strutture private, secondo quanto previsto dalla legge. Tutto questo è stato possibile anche grazie all'ottenimento di un finanziamento regionale, che ha permesso di intervenire celermente. Abbiamo completato la rimozione, annuncia il sindaco Domenico Balsamo, rimuovendo lastre e amianto abbandonato in tutte le forme nelle nostre campagne, a margine delle sedi stradali, da Contrada Cuti, Alvano, Pepe e altri siti ancora. Abbiamo già avviato, conclude Balsamo, la terza fase, chiedendo alla regione siciliana l'autorizzazione a derogare contributi ai privati per avviare la bonifica nelle case dei cittadini, che sono stati censiti e che lo vorranno fare. Per il raggiungimento di questo obiettivo voglio ringraziare, oltre all'ufficio tecnico e alla pulizia municipale, l'architetto Maria Castellino, incaricata della redazione del piano, e l'ingegnere Pasquale Amato, presidente dell'Aro Alto Verdura e Gebbia. Intendo esortare, infine, chi sporca e quelli che abbandonano spazzature di ogni genere, Eternit, e qualsiasi altra cosa che avvelena il nostro territorio e l'intero pianeta, di rendersi conto del male che fanno alla nostra comunità. Un risultato importante, dunque, che permette al piccolo comune grigentino e all'amministrazione Balsamo di risolvere e chiudere un problema annoso.